La musica ha la capacità di unirci al Signore e ci libera dalle angosce. Con queste parole Papa Francesco ha espresso gratitudine per quanti hanno promosso l'evento Concerto per i Poveri in programma domani in Aula Paolo VI ed eseguito dall'Orchestra Filarmonica Salernitana e dal Coro della Diocesi di Roma. Incontrando prima dell'udienza generale organizzatori e sponsor, il Pontefice ha rimarcato che tale iniziativa farà bene a tutti seminando gioia vera in un mondo troppo spesso chino sull'affarismo materiale. Grazie a tutti.